Uso con la riconferma alla presidenza di Patrizia Alfano il congresso regionale della WISP che riunisce mille associazioni sportive del Piemonte. Al centro della discussione la crisi pandemica che mette a repentaglio l'esistenza di almeno la metà dei sodalizi sportivi. È un rischio che ha spinto la WISP a rinnovare il suo appello perché vi sia anche una diversa distribuzione delle risorse nel mondo sportivo che privilegi l'attività di base. Allora sentiamo proprio le parole di Patrizia Alfano. In questo mondo ha bisogno di risorse economiche. Oggi più che mai il 97% dei contributi dello Stato per lo sport alle federazioni a fronte del 3% agli enti di promozione è oggi più che mai ingiusto. Per tutti i cittadini che sono a casa, che chiedono di poter ricominciare a fare sport perché poi non parliamo dello sport che fa spettacolo, che è ricreativo. Parliamo di uno sport che è salute, formazione, educazione, inclusione, prevenzione, anziani, bambini, adulti. Cioè è una parte importante della qualità della vita dei cittadini.